E' giunto l'esito dei test che ha accertato come quattro soggetti non hanno contratto il virus. Sospiro di sollievo per la comunità nell'apprendere dell'esito negativo dei tamponi. Rassicuro alla comunità di Chiara Esposito che nelle ultime ore, nonostante la riservatezza del caso, ha vissuto con apprezzione l'attesa dell'esito dei tamponi, risultati tutti negativi. Tuttavia, continua il sindaco, voglio ricordare l'importanza del rispetto delle norme anti-Covid. La famiglia in questione, vivendo nella normalità il periodo di vacanza a Palinuro, per pura casualità, è entrata nella rete dei contatti di una persona poi positiva. Ciò dimostra che occorre prestare la massima attenzione e rispettare le norme di distanziamento, quale unica arma che possediamo per combattere la diffusione del Covid. Nell'augurare buone vacanze ai turisti liguri che hanno vissuto questa situazione, Voglio rammentare ai miei concittadini, continua Esposito, la necessità di non diffondere notizie false che creano solo danni alle persone e alla nostra economia. È necessario il senso di responsabilità di tutti. Come amministrazione siamo costantemente impegnati nel controllo e nel monitoraggio della situazione. Tuttavia, è necessario che non si verifichino episodi di assembramento nei locali ed è necessario l'uso della mascherina. Le forze di polizia, ricorda in conclusione, vigileranno il rispetto delle norme con l'applicazione delle sanzioni. Sansa è Covid free e faremo di tutto perché questa situazione non cambi.